Questo lo devo decidere io, lo devo decidere io perché ci sono, così come ho fatto nel passato, io ho rifiutato, semmai, le opportunità più ambiziosi per correre una sfida difficile con il PD al 40% nel momento di grande crisi politica di Forza Italia e con il Movimento al 35% al 30%, l'unica parte Italia dove vince la destra è chi affoggia, quindi ho rischiato. Così come dico che la politica non è occupazione di poltrone ma è servizio, io mi metto a servizio del mio partito, certamente non posso accettare chi pensa e chi dice che non ci sarà una della base perché quello è un rapporto che immediatamente viene lacerato e consumato da affermazioni inaccettabili, nessuno mi può mettere in condizioni che cosa devo fare io soprattutto da chi probabilmente dimentica che grazie al primo di maggioranza è seduto nei banchi del Consiglio Comunale. Quindi lei pensa, c'è la porta aperta, c'è la porta aperta la sua ricandidatura? Non le scuso, non le scuso.